Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come procedono i lavori di intonacattura di questo palazzo storico. Ora vediamo che è stata applicata la stabilitura, la seconda mano. Andiamo a vedere da vicino. Ecco qua, adesso la malta d'intorno sta facendo proprio lavoro, sta asciugando. E aspettiamo circa dieci giorni per completare questa fase e poi cominciamo la settimana prossima con la finitura, con la rasatura armata, dove all'interno della calce metteremo il colore vero e proprio delle facciate, che si chiama appunto antica toscana, che è un colore nocciola giallino, sempre dato dal colore delle sabbie della calce. Guardate che bella la facciata, adesso questa è la stabilitura in calce su tutte e quattro le facciate applicate e poi poseremo la finitura in modo da dare a questo edificio il suo colore definitivo. Ciao, al prossimo video!